E ciao a tutti ragazzi, io sono Eletro16 e oggi siamo ritornati dopo troppo tempo nella serie degli SCP Lockdown. Nello scorso episodio avevo visto l'uomo lanterna. Intanto qua lo spazio dei label non ce n'è più, cioè abbiamo un piccolo spazzettino qua e il resto non c'è più. L'Eric Toy o cazzo? Eric Toy? Non c'è l'Eric Toy da nessuna parte, non so, mi sa che è uscito, mi sa, però tu non uscire, ok bravo. Mi sa che se ne è andato qua in giro da qualche parte, qua gli Axolot, no, sono desponati gli Axolot. Vabbè che manco mi servivano chissà quanto, erano così per tenerezza. E mannaggia la peppina si sono desponati gli Axolot, vabbè. Allora ragazzi, nello scorso episodio avevo visto l'uomo lanterna. La volta scorsa qui dagli SCP... Va bene, allora la volta scorsa con gli SCP avevamo visto, sapete chi? 1499 fake. Il problema è che l'audio non funzionava e io, sapete che cosa ho tirato? Tante bestemmie. Ma che bello! Yeah! E... vabbè. Comunque raga, l'SCP che andiamo a visitare oggi, non so neanche quale potremmo vedere. C'è questo della... Che che... Mi sa che è una spada, non lo so neanche io. C'è anche questo. Però a me interessa uno particolare che sta qui dietro. Che è molto particolare. Vi spiego appunto perché. Qua c'è la cella della Living Room. La Living Room c'è ancora, però la carne appunto non c'è perché l'avevamo tutta rubata, presa. Però mi sa che prenderò anche questi blocchi. Vabbè, allora... La cella che andiamo a visitare oggi è questa qui. C'è anche una qui, molto strana, che ha il ferro... E il Lapislazzuli. Ed è molto strano per me, molto particolare, molto suss... Se vogliamo essere sussaioli. Vabbè, allora io vado nella cella dell'SCP di oggi, che è quello con le torce di Redstone. Questo qui. Ed è strano che ci siano le torce di Redstone. Redstone. E un'altra cosa strana è che nel fondo c'è un pesce intanto, però vabbè. Il fondo, la cella, è tipo vuota. Cioè, qua non c'è neanche la cella. Mi sa... Sta qua la cella. Va bene. Qua c'è tutta una caverna. Che poi a camminare sembrava... C'è dell'oro? No, del ferro. Sembrava oro. Ragazzi, ho paura che qua ci sia una lumaca corrosiva. Perché che ne sapete che c'è la lumaca? Perché la lumaca corrosiva è stato uno dei primi SCP. Cioè, l'avevamo uccisa? Porco di se... Meno male che non si è visto nessun numero. Se no, erano cazzi amari per tutti. E niente, ragazzi. Questa è la cella. Molto strana. Perché qua c'è un'apertura. Però non... Però si entra da là. Va bene. Entriamo. Molto rumorosa. Abbassiamo, per favore, un volume. Allora. Molto strana. Non c'è, mi sa, il label. No, non c'è il label. Però dal layout della cella si deduce qual è l'SCP. E l'SCP di oggi è l'SCP 280, ovvero l'ice in the dark. Gli occhi nel buio. Possiamo anche, se volete, fare una prova. L'SCP 280, ragazzi. L'SCP di oggi mi sa che è il 280 perché appunto... Cioè, in realtà l'ho detto perché appunto se... Cioè, la cella del 280 funziona così. C'è questa porta e poi c'è questo cubo che tecnicamente qua ci dovrebbe essere il label. Però non c'è. Non so perché. Però, allora, vi spiego. L'SCP... L'SCP 280... Se mi arriva un'altra notifica e dirò una brutta frase con la P... L'SCP 280 è una forma oscura umanoide con delle braccia tipo un fantasma nero con gli occhi che praticamente è molto aggressivo e attacca le persone nel buio. Quando entra in contatto con la luce, lui si immobilizza. Però quando entra in contatto con tantissima luce, lui si teletrasporterà in un altro posto dove non c'è la luce. Intanto, raga, vediamolo un attimo. Ok, eccolo, eccolo, eccolo. Ok, raga, l'abbiamo visto. Non ho... Di cazzo di blocchi, porco. Allora, mettiamola il blocco qui. E se io aprivo, apro la porta, dovrei poterlo vedere. Lì, vede... Intanto, va bene. Allora, ragazzi. Eccolo qua. Lui è L'Eyes in the Dark. Ok, non dovrebbe poter neanche uscire. Eccolo qui. Lui è L'Eyes in the Dark. È appunto un fantasma, se vedete. Emana anche del fumo, se notate. Se io... Cioè, vuole provare, mi sa, uscire. Ma non ci riesce. Vorrei provare ad aprire la porta, però ho un po' paura. Allora, se notate, ha le braccia. Emana fumo. E ha degli occhi, che però non si illuminano a buio, stranamente. E niente, questo era la... Ma se io mi avvicino? No? Va bene. Allora, adesso, tecnicamente, se io spaccassi qua un blocco, lui non dovrebbe poter uscire. Infatti, dov'è? Eccolo qua. Ice in the Dark. Ice in the Dark. Eccoci qua. E vedete? Lui non dovrebbe poter scappare. Ecco. Ma... E... Aia! Aia! Allora fa... Tre cuori e mezzo, ed ha cecita per tipo dieci secondi. Oh mio Dio... Eh... Aspè? Aia! Ma è creepy! Cioè, vedetelo da qua. Guardate! È tipo una roba creepy. Cioè, tu ti vedi tutto nero... E ti vedi sti due occhi... Se lo colpisco, questo non si allontana. Se io gli perso la torcia... A quanto pare non reagisce... Aia! Alle torce... Niente... Ragazzi, ha ucciso. Ice in the Dark. 2.80. E noi spawniamo sempre sopra casa. Non ho ancora capito. Perché cacchio? Noi spawniamo sempre sopra la casa. Che... Ho preso danno? What? Preso... Per un attimo ho preso danno. Molto strano. Molto sus. Rientriamo nella cella. Tecnicamente lui non dovrebbe essere scappato. A meno che non ci sia la luce. Cioè, la luce... Nella sua cella non ce n'era. Ma mi sa proprio di no. Quindi, raga, vediamo. Lui c'è ancora... Sì, lui c'è ancora. Lui c'è ancora. Buono, buono. Perché possiamo fare questo ultimo test. Ovvero, illuminarlo fino alla morte. Allora, noi l'abbiamo illuminato abbastanza. Ma lui non reagisce. Ice in the Dark. Che poi, Ice in the Dark in italiano significa occhi nel buio. Ciao. Bello le... No, no, è bello lento un corno. Raga, faccio c'erciudere proprio qua. Dove c'è la luce. Lui c'è ancora. Vedete? Vedete? Lui c'è ancora. Però dovrebbe teletrasportarsi sto qui. E non lo fa. Il che però è abbastanza buono. Perché possiamo sfruttare questo fatto che non si teletrasporti. Per contenerlo prima nel laboratorio. Però lui si deve teletrasportare. Strano che non... Ma perché io... Cioè, porco di... Cioè, lo dovevo dire. Ormai l'avevo detto. Allora, raga. Rientriamo nella cella. Lui dovrebbe adesso non esserci. Speriamo che lui non ci sia. Ci abbiamo messo 40. Raga, possiamo associarci, ma dissociarci, però associarci, ma dissociarci allo stesso tempo? Questo qua, ancora qua dentro sta. Ma te ne vuoi andare? Allora, secondo me, raga. Voglio dire una cosa. Secondo me, lui... Intanto proviamo a ucciderlo. Ma mi sa che è quasi morta. Che ha molta vita. L'ho ucc... Ma what? L'ho ucciso, ok. E va bene. Noi l'abbiamo ucciso, raga. No, buono. Cioè, in realtà potrebbe essere anche buono. Che ne sapete voi? Però non è buono. Perché potevamo fare altri test. Io vorrei sperimentare... Alla luce del sole, raga. Ci vediamo sopra. Faccio quest'ultimo test. Dovrò andare in creativa, lo so, però. Vabbè. Ci vediamo fra poco. Ok, raga. Allora, aspettate un attimo. Eccolo qua. Lui l'ho messo. È giorno. Lui mi segue. Ma si ferma? He's in the dark. Si è fermato? Ma? No, no, no. Cacchio? Quel cacchio? Raga, eh... Mi sa che lei's in the dark. È poco cooperativo. Mi sa che non vuole, mi sa, eh. Non vuoi? Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Non può venire alla luce. Cioè, c'è qualcosa che succede di strano. Aspetta. No, no, mi... Non dovrebbe tecnicamente... Allora, aspettate. Facciamo così. Se io fa... Ok. Siete trasportato. L'abbiamo visto per un istante. Siete trasportato, raga. E... Raga, siete trasportato. No, buono. Però non lo vedo da nessuna parte, eh. Cioè, allora, l'avete visto tutti. Avevo spaccato. Lui si era visto per un istante. Poi era scomparso. Mi sa che lui... Adesso è in giro, mi sa. E mi sa proprio di sì. Abbiamo fatto una mezza cazzata. Intanto rimettiamo notte. Eh, si chiama anche Ace in the Dark 2.80. Ehm... Mezza notte, ma sì, dai. Raga, abbiamo fatto una cazzata. Perché, allora... Se ci pensate, adesso nel mondo è notte. Cioè, io ho messo... Ma porco Dio. Vabbè. Allora, raga. Stavo dicendo che... Abbiamo fatto una mezza cazzata. Perché ora... Ma qua fanno una coalizione mentre registro che... Arrivano tutti gli annunci. Vabbè. Stavo dicendo che adesso è una mezza cazzata. Perché lui, ora, è libero. Cioè, lui si è teletrasportato. Non è... È lì da qualche parte, secondo me. E... Lui... Adesso è notte. Lui si può... Cioè, noi abbiamo visto che non può... Che di giorno può rimanere... Solo dove sta un albero. Invece di notte. Questo si muove dove stracacchio vuole. Questo è il problema. Vabbè. Io, raga. Comunque, ragazzi, direi... Penso e direi che per questo video è tutto. Lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi. E da me, Elettro16, è tutto. Ciao.